Salve a tutti, mi chiamo Francesco Donati e frequento la classe terza B del liceo classico da Ponte d'Era in provincia di Pisa. Quando ci è stato presentato questo concorso, il premio Asimov, dalla nostra professoressa di matematica e fisica, abbiamo subito come classe accettato di partecipare per due motivi principali. Il primo è che avrebbe sicuramente ampliato la nostra cultura generale facendoci conoscere titoli di divulgazione scientifica o comunque inerenti alla matematica e alla fisica che difficilmente avremmo scoperto. In secondo luogo, questo concorso ci avrebbe aiutato e ci ha aiutato a migliorare il nostro registro linguistico e il nostro stile di scrittura. Per quanto riguarda me, il libro che ho scelto di leggere e di recensire è stato l'algoritmo all'oracolo di Alessandro Vespignani. Inizialmente sono stato attratto da questo titolo un po' provocatorio e devo dire che questo libro mi ha molto entusiasmato e mi è piaciuto molto perché mi ha fatto comprendere appieno l'utilizzo degli algoritmi e le loro funzionalità e il fatto che nelle nostre vite siano sempre presenti e il fatto anche che gli algoritmi, anche se non lo sappiamo, anche se noi non ce ne accorgiamo, controllano e condizionano le nostre vite e per questo motivo siamo molto manipolabili e appunto controllabili. Mi è piaciuto molto anche il fatto che l'autore abbia parlato del problema della privacy e come anche questo aspetto sia condizionato dagli algoritmi. Per esempio possiamo dire che tutti gli annunci e tutte le pubblicità che ci compagno sui social o sui siti web sono create da algoritmi ovviamente. E appunto in generale ho apprezzato molto questo libro e come l'argomento è stato dato dall'autore da Alessandro Vespignani.